La cultura dei valseri mostra la Biblioteca della Regione Piemonte fino al 31 maggio. E' stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra intitolata Le stampe popolari e la religiosità dei valser del Monte Rosa organizzata dall'Associazione Culturale Augusta di Issime, provincia di Aosta con il supporto del Consiglio regionale. I documenti in mostra, molti legati alla religiosità, interessano il periodo che va dalla metà del Seicento alla Prima Guerra Mondiale. Patrocinata dall'Associazione Augusta di Issime è una mostra che riguarda la religiosità dei valser vista attraverso una collezione di stampe antiche che percorrono un periodo che va dalla metà del Seicento fino alla Prima Guerra Mondiale, grosso modo, che ho raccolto in diversi anni appunto e volevo mostrarle qua, credo che sia una cosa piacevole, sarà poi il pubblico che giudicherà.